Siamo in compagnia di Federica della boutique dell'arte, voi fate liste nozze, avete articoli da regalo, quindi curate anche le bomboniere in un matrimonio con marchi di qualità. Sì esatto, io sono originaria di Castelli e ho aperto un negozio a Chietiscalo, ho portato la qualità tipica abruzzese e poi abbiamo inserito anche altri tipi di articoli, anche un pochino più alla portata di tutti. Allora noi siamo a Piazzale Marconi, centro Agorà, adiacente alla piazza comunale che è a 30 metri dalla stazione di Chietiscalo.